Un itinerario guidato alla scoperta della città romana, delle bellezze lasciate da chi ha battuto il suolo salentino prima di noi. Un viaggio attraverso i monumenti simbolo della Lecce Romana, che tanto ha ancora da raccontare e che è ancora da scoprire. L'associazione Monuments People Apps, in accordo con la soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, con la direzione regionale dei musei Puglia, organizza l'evento Lecce Romana e il suo teatro, in programma dal prossimo 4 di luglio. Si tratta di un percorso per far conoscere la storia e le ricerche degli studi attraverso un'analisi puntuale dell'evoluzione urbanistica, dell'antica lupia e delle strutture dei monumenti, corredando le spiegazioni con apposite immagini che presentano disegni, rilievi e ricostruzioni degli edifici creati in era romana. Per riservare il proprio posto è necessario prenotarsi alla mail demonumentpeople.gmail.com o sul sito www.cpst.it. Lecce Romana. Un'occasione da non perdere per apprendere al 100% la bellezza della storia della città barocca, che ha vissuto anche un importante periodo di dominazione romana.